Qui c'è un edificio che oramai da troppi anni è in totale abbandono. Si stimano in 60 le persone che ogni notte dormono qui. Non si nascondono neanche più, entrano ed escono come se fosse il loro vero e proprio appartamento. I cittadini qui sono esasperati, sono oramai troppi i furti, lo spaccio di droga. Qui vivono soprattutto drogati e persone che vivono interamente di espedienti. Il Comune di Milano ha fatto sempre moltissime promesse ai cittadini del quartiere, dicendo che in qualche modo avrebbe trovato i fondi almeno per l'abbattimento. In realtà l'edificio è ancora qui e non si ha in mente neanche come risolvere la situazione per i prossimi anni. Ciao, un giorno. Ciao, un giorno. I cittadini chiedono al Comune l'immediata messa in sicurezza e abbattimento dell'edificio. Il dubbio è che a questa amministrazione faccia comodo tenere una struttura in queste condizioni perché senza tetto trovano un chiaro rifugio. Ma ai cittadini del quartiere, ai milanesi, chi ci pensa?